Sono Anna Calamari, frequento la contrada dal 91-92, fierissima di essere di questa contrada, sono nata e vissuta in via Roma per cui mi sento sicuramente di San Martino, per quattro anni ho fatto la castellana di questa contrada e dico che il ruolo delle donne in contrada è importante. Sono sempre stata dell'idea che il gran piore dovesse essere l'uomo, però mi sono ricreduta nel senso che le donne forse hanno quella marcia in più che mi sento di riconoscere a queste persone che hanno coperto questa carica. La contrada San Martino è una contrada con una forte connotazione famiglia, arrivo da veramente un'eredità a livello di gran priori donne importanti, mi piace comunicare e pensare che anche a livello dei cerimonieri quest'anno la contrada San Martino presenterà una serie delle nominative a famiglie che spero vengano accolti. Ovviamente è arrivato probabilmente anche in questo senso da parte del mondo palio il momento di uno svecchiamento e di un approccio un po' più moderno, mi sento di dire, e un pochino più a 360 gradi rispetto a quello che sono i ruoli da ricoprire all'interno della contrada.